Marco Giampaolo, sindaco di Ripa Limosani, riquilificazione del TAV Moffa da tiro al volo a tiro dinamico. C'è stato questo passaggio per questa nuova associazione, lo shooter molise, che nasce e quindi, possiamo dire, arricchisce l'offerta sportiva di Ripa? Sicuramente arricchisce l'offerta sportiva di Ripa, tant'è che organizzo l'associazione che qualche giorno fa ci ha fatto richiesta per le dovute autorizzazioni. Ovviamente abbiamo fatto i dovuti controlli perché essendo un'attività, una disciplina abbastanza particolare che prevede il rispetto di norme che vanno al di là di quelle che può essere la normale disciplina sportiva abbiamo controllato le carte, erano tutte in regola e qualche giorno fa abbiamo rilasciato ovviamente la licenza per poter esercitare questa attività. È una cosa importante per Ripa perché innanzitutto aumenta l'offerta formativa e non solo l'offerta formativa ma può dare la possibilità a persone di poter dar lavoro in questa struttura perché è previsto da parte degli organizzatori anche l'installazione di nuovi apparecchiature o comunque di nuove strutture in modo tale da aumentare nell'arco del tiro a volo, insomma nell'arco di questa disciplina sportiva, migliorare loro stessi l'offerta sportiva e quindi questo può comportare un maggior sviluppo dal punto di vista sportivo anche a questa terra. Tanti campi di tiro dinamico in Italia però soprattutto al nord, meno al sud, quindi Ripalimosani può diventare un punto di riferimento per gli atleti del centro-sud anche chiacchierando insomma con gli atleti presenti qui, tanti campioni italiani, hanno comunque fatto i complimenti per questa struttura che si attesta di già tra le migliori del centro-sud. Sì, a detta degli organizzatori o comunque di chi è del mestiere, quando è venuta a fare un sopralluogo qui l'aveva già individuata come una delle migliori strutture, ovviamente ha bisogno di interventi, ha bisogno di investimenti e per fare anche gare europee ha bisogno di aumentare le linee di tiro, tutte cose che sono in programma dei gestori attuali di questa struttura e ovviamente il fatto che possono venire qui a fare delle gare europee non può far altro che piacere e lustro diciamo per questo, al di là di Ripa ma per l'intero Molise perché come dicevi prima era proprio una struttura diciamo nel centro-sud Italia una delle più grandi, delle migliori e che ha potenzialità enormi.